Mi sono reso conto che esisteva un nuovo filone letterario che mutuando il termine dalla fantascienza in inglese, sci-fi, science fiction, viene chiamato climate fiction o cli-fi. È un filone letterario che appunto si occupa di raccontare vicende a partire da scenari che hanno come base il cambiamento climatico. Ormai è diventata un'etichetta importante, ci sono molti autori che si ispirano a questo genere. L'ha inventata un signore che si chiama Dan Bloom, poi l'ha rituitata Margaret Atwood, è diventata subito un'etichetta, una tag di grande successo. Ed è un genere ormai a parte, diverso dalla fantascienza, perché mentre la fantascienza può immaginare qualunque scenario, la climate fiction parte sempre da uno studio attento della produzione scientifica sull'argomento. Quindi gli scenari che inventa non sono semplicemente possibili, ma sono probabili. Credo che sia anche un ottimo modo per comunicare al grande pubblico il cambiamento climatico.